Nel giorno in cui la Germania presenta la nuova maglia ufficiale per il mondiale, l'attenzione è tutta per un debuttante, Roman Weidenfeller, 33 anni, portiere del Borussia Dortmund, dei miracoli. L'estremo difensore potrebbe anche esordire il nazionale venerdì a San Siro contro l'Italia, oppure quattro giorni dopo, nell'amichevole contro l'Inghilterra. Prima di tutto voglio ringraziare lo staff della nazionale per la fiducia. Oggi si è avverato un sogno, una cosa speciale per me. Respirare quest'aria, sentire certe emozioni, questo vale tanto e mi rende felice. Magari contro gli azzurri il citide tedeschi Joachim Löw gli preferirà il titolare Manuel Neuer, ma non è detto che una chance non gli sia data a Wembley contro gli acerrimi nemici inglesi. Lui intanto non ci pensa e si gode i suoi primi passi in nazionale. Ah, che giornata! Mi hanno accolto tutti con calore, è stato bello. La mattina abbiamo lavorato assieme in palestra. Li conosco tutti dalle sfide di Bundesliga, alcuni però sono amici speciali. Ecco perché è stato bello questo esordio qui. E magari Weidenfeller spera di vincere la corsa come dodicesimo dietro Neuer per il prossimo mondiale brasiliano.